Sa che la voce sindacale invoca più ispettori, più controlli. Noi abbiamo un'altra idea. Senz'altro i controlli servono per colpire le situazioni più compromesse. Ma la nostra idea invece è di far crescere il settore. E come farlo crescere? Farlo crescere con la sensibilità degli operatori, con la formazione che viene erogata ai lavoratori, sia in cantiere sia in aula e con una percezione differente di quello che è la realtà di un'azienda. E noi chiediamo che sia anche la committenza a valutare con grande attenzione il proprio interlocutore. Prima di affidare un'opera è importante che un committente valuti la capacità, la professionalità di un'impresa. È anche attraverso questi strumenti che si limita l'insorgere dell'infortunio e delle negatività nel nostro settore. E' la logica del massimo ribasso che va abbandonata. Assolutamente. E insieme al massimo ribasso va migliorato il criterio con cui si assegnano i lavori. Non tutte le imprese sono uguali. Alcune non sono neanche delle imprese. E quindi è compito di tutti, di tutto il sistema, rendere efficiente questo percorso e migliorare il tema dell'affidamento dei lavori. Affidarsi a imprese solide che abbiano al loro interno la capacità di produrre e farlo in sicurezza.